Buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video su Power Wash Simulator Io sono Glacial Sphere ed oggi continuiamo la nostra carriera su Power Wash Simulator Appunto, siamo ad un buon punto, credo, perché abbiamo fatto già un bel po' di livelli Questo dovrebbe essere il settimo episodio di Power Wash Simulator Ed oggi direi di iniziare a recuperare quegli obiettivi, quei task, quelle missioni che ci erano rimasti indietro dall'inizio, quindi andiamo con la moto da cross Guadagneremo solo 75 dollari, ma ce ne faremo bastare Joe Average, deve esserci qualcosa che non va con la mia moto da cross Tu dici bro? Tu dici? Io sono un vincente e mi piace chissà vincere Ogni mattina metto 4 fette di pane nel tostapane, ma mangio solo quella che salta fuori per prima Un po' ossessivo compulsivo Quando bevo un caffè ingoio solo il sorso che vince la gara verso la mia bocca Ma su questa moto arrivo sempre ultimo Magari va piano perché ho lo sfinte erogeno sporco, o come diavolo si chiama Il fatto è che sono un tipo superstizioso e non lavo questo bolide da più di 15 anni Grazie Io questo tipo non lo voglio assolutamente conoscere Andiamo a giocare Non dovrebbe esserci un obiettivo per questa missione Quindi dobbiamo solamente lavarla Vediamo un po', eh Let's go, let's go Non dovremmo impiegarci tanto in realtà Io vi ricordo nel frattempo di mettere un mi piace al video, di iscrivervi al canale Condividere questi video con chi pensate che possa essere divertito da un gameplay di questo tipo A chi possa piacere questo tipo di gioco Sappiate che è anche in cooperativa, eh Si può fare anche in cooperativa E commentate facendomi sapere cosa ne pensate Io lo trovo estremamente rilassante A sorpresa tra l'altro perché non... Non l'avrei mai detto Non avrei mai pensato di trovarmi a giocare a questo tipo di gioco Non avrei mai pensato di ter a questo tipo di gioco Ok, vediamo un po' cosa che manca. Le paraurti. Disco dei freni, il parafango posteriore. O meglio, il parafango, non il paraurti, mi sarebbe confuso. Eccolo qui. Serbatoio. Serbatoio non è tipo qui da qualche parte. Perdonatemi l'ignoranza, ma non guido motocross. Poi abbiamo il disco dei freni. Anteriore, posteriore, posteriore, immagino questo. Ok. Serbatoio, questo. Ah, perfetto. Olè. Ehi, cerca sporco. Qualunque cosa tu stia facendo, ferma tutto. Il mio golf cart è in condizioni pietose. Il sindaco Jeff ha bisogno di noi, ma noi abbiamo appena finito questo lavoro, quindi guardiamoci il timelapse. Perfetto. Ed anche questo video molto veloce in realtà finisce qui. Ti ricordo di mettere mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Agra Cialo Sphere è tutto. A prossimo video.